E' passato un anno da quel 15 giugno 2015, quando la città di Cerignola si risvegliò da un sorprendente verdetto elettorale, che premiò alla guida della città Franco Metta leader del movimento politico La Cicogna. Per la prima volta i tradizionali partiti avevano perso. Due settimane prima, al primo turno, prevalse l'attuale segretario del PD Sgarro al 43,3%, mentre Metta era a 10 punti di distacco. Sgarro era convinto di potercela fare. Tutto poteva pensare tranne una sconfitta di quelle dimensioni. Si fermò al 44, mentre l'attuale sindaco vinse con il 55% delle preferenze. Le reazioni di quella sera furono ovviamente di soddisfazione per il movimento politico La Cicogna e di rabbia e delusione nel centro-sinistra con gli alti vertici locali in lacrime in silenzio. Fece sensazione al primo turno la sconfitta del centro-destra, che su un nuovo di Vitullo aveva puntato per la riconferma della città. E' passato un anno e certamente molto resta da fare, al di là delle tante vicissitudini e problemi che hanno contraddistinto l'attività della cosa pubblica. Come testata web tv non esprimiamo giudizi di merito, poiché abbiamo sempre mantenuto un equilibrio che intendiamo mantenere anche in questa circostanza, senza proteggere per nessuno, ma raccontando con rispetto quanto avvenne all'epoca, senza dimenticare i tanti, troppi problemi che restano ancora da risolvere. Mimmo Siena, Speciale News.